Conferimento rifiuti. Con una nota pervenuta questa mattina, l'ufficio Flussi della Regione Campania ha comunicato che a causa di un guasto improvviso ad una delle linee di combustione del TVA di Acerra, si è dovuto disporre una notevole riduzione delle evacuazioni dall'impianto di Battipaglia verso Acerra. Tale imprevedibile evento, si legge, comporterà un'oggettiva impossibilità a garantire regolari conferimenti della frazione indifferenziata da parte dei comuni della provincia presso lo stile fino al ripristino dei flussi di evacuazione verso il TVA. Nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, il Comune di Battipaglia ha rappresentato la propria situazione come gravosa ed urgente, cercando di mediare rispetto sia alle difficoltà oggettive, sollecitando una celere soluzione. L'attività di raccolta rifiuti potrà subire dei rallentamenti a causa delle difficoltà riscontrate. Si invita a prestare maggiore attenzione nel conferimento per evitare eventuali disagi.